Diffondere la pratica della scherma anche negli istituti scolastici, introducendola come nuova disciplina al piano formativo. Con questo obiettivo è stata sottoscritta la convenzione tra l'Istituto Comprensivo Statale 1 di Darfu Borio Terme ed il Club Sportivo Scherma Sebino, quella quale da questo venerdì 28 ottobre si è dato il via al progetto federale La mia scuola promuove la scherma, un'iniziativa nata da un'idea della Federazione Italiana Scherma, in collaborazione con il CONI e il Ministero dell'Istruzione, Sport e Salute e SPA. Il progetto coinvolge 22 studenti delle classi prima, seconda e terza media dell'Istituto Ungaretti di Darfo e 14 studenti della scuola Moro di Gianico, con lezioni pratiche di scherma tenute da istruttori federali qualificati, che dureranno fino al mese di novembre. Un'esperienza unica per l'Istituto Statale, il primo in tutta la Regione Lombardia ad aderire al progetto. Siamo molto felici di aderire alla proposta che c'è giunta da parte dell'Istituto Ungaretti e anche quello Moro di Gianico. Verranno svolte delle lezioni pratiche appunto di scherma, con prima una spiegazione su cos'è la nostra disciplina, quali sono le regole di base, le differenze tra i tre armi, e poi seguiranno appunto i primi rudimenti. Verranno poi svolte anche degli assalti supervisionati dal nostro direttore tecnico, il maestro di scherma Jacopo Inverardi. La Federazione Italiana Scherma metterà per l'occasione a disposizione un kit schermistico ad hoc fornito dallo sponsor tecnico federale per il progetto Kinder Joy of Moving, mentre l'Istituto Comprensivo Statale 1 di Darfo beneficerà di un apposito kit scolastico. La proposta si inserisce all'interno del nostro indirizzo sportivo. Abbiamo effettuato questa scelta perché va a arricchire la nostra offerta formativa, nel senso che abbiamo già in attivo tantissimi sport che vengono sviluppati e dei quali ci si prende cura insomma all'interno dell'anno scolastico. La scherma è effettivamente uno sport molto interessante, purtroppo ancora sconosciuto e quindi ben volentieri abbiamo aderito a questa iniziativa. La mia scuola promuove la scherma, porta alla pratica della scherma in Valle Camonica in una stagione agonistica di rilievo. Regione Lombardia ospiterà infatti a Milano a luglio 2023 i campionati mondiali di scherma. La cosa che ci preme di più sono i ragazzi, quindi l'introduzione di una disciplina sportiva come lo scherma che si basa di valori quali la logica, lo spazio, la fisica, quindi valori che sono relazionabili sia dal punto di vista scolastico come materia ma anche dal punto di vista sportivo. siamo contenti che i ragazzi possano praticare questa attività, relazionarsi tra i loro simili e quindi accrescere quella che è la loro curiosità sia sportiva che anche proprio sociale e intellettuale.